giovanni memoria in questo video parliamo del fatto che per preparare un esame non devi avere un metodo vediamo cosa vuol dire come è strutturato il metodo di studio efficace entro la fine del video avrai la lista della spesa in pratica lo schema definitivo del metodo di studio e lo schema è diviso in tre punti per studiare meglio nella metà del tempo senza dover fare il flipper emotivo tra ansia paura il reggetto dell'esame e il sistema della fenomenologia dei nuclei in movimento fnm nelle prossime settimane pubblicherò un video di tagliato su ciascuno dei punti del sistema di studio fnm quindi iscriviti al canale se vuoi avere la sicurezza di non perderti questi video voglio fare una piccola premessa il video che stai guardando è diverso vuole essere un'alternativa alla dittatura delle tecniche e delle mappe e più di tutto vuole contrastare la favola del metodo perfetto che va un po bene per tutti gli studenti il sistema fnm mi ha permesso di prendere due lauree magistrali mentre lavoravo entrambe con lode non te lo nego è stata una gran fatica è piena di sacrifici ma ci sono riuscito ci sono due scoperte tra le più grandi che abbiamo fatto con gli allievi del corso memovia e le voglio condividere tutte con te oggi perché mi hanno regalato una grande libertà una libertà di cui mi sono innamorato e non sopporto di vivere una vita non libera quindi voglio che tutti gli studenti abbiano d'ora in poi questa scelta la prima scoperta è stata questa iniziare a studiare una nuova materia un nuovo esame ogni volta e come saltare nel vuoto non conosci la materia magari molto grossa è tutto nuovo e quindi potresti decidere di fare uno dei più grandi errori degli studenti fare i passaggi per esempio leggere rileggere per capire poi fai gli schemi poi riduci le cose da studiare dentro delle mappe in base alle domande più fatte poi memorizzi poi ti eserciti a parlare come facevi a scuola insomma ti convinci che devi avere un metodo molto rigido e addio libertà per quanto riguarda le rigidità dei vari passaggi e come farli in maniera meno rigida ne ho parlato in diversi video che trovi nei link in descrizione il mio grosso errore da ragazzo era credere che nello studio ci fossero fasi diverse l'ho fatto per anni lo fanno quasi tutti gli studenti quindi se lo stai facendo ti capisco il fatto è che ti passa la voglia ci metti una vita e ti sbatti tra i materiali come una pallina del flipper e so come ci si sente legati è tutto vero te ne accorgi perché lo fanno tutti quelli che conosci e hanno tutti gli stessi casini un auto lesionismo lo senti anche tu il rifiuto per fare tutti quei passaggi la novità è che avevi ragione a provare quel rifiuto non devi avere un metodo pensa un secondo alle tue esperienze mica quando dobbiamo imparare a fare qualcosa che ci piace facciamo tutti questi passaggi il nostro cervello ha un talento per apprendere quando lo fa liberamente è formidabile ma la scuola ci ha tolto questo talento questa libertà noi possiamo cambiare lo studio riconquistarlo ti giuro che è una sensazione fantastica per questo nel corso memoria non c'è una parte dedicata ai passaggi e si dice sempre di studiare direttamente dal libro sembra incredibile ma è così pensi che sia una cosa soggettiva è vero anche questo infatti adesso arriva il bello la seconda scoperta che facciamo insieme nelle arti e nella letteratura di ogni secolo ci sono dei geni se leggi le biografie le opere di mozart leonardo michelangelo picasso einstein noti un elemento sempre comune sai qual è ogni genio è un triangolo a tre lati nello studio nel lavoro ha sviluppato quindi all'estremo tre doni meravigliosi del cervello umano e li ha integrati in modo libero molto personale fino a sviluppare la sua mente superiore diversa da tutte le altre così nel sistema della fenomenologia dei nuclei in movimento esistono tre tipologie di studente efficace ciascuno ha delle caratteristiche più forti in un lato anche se non in modo esclusivo si chiamano le incarnazioni vuoi sapere come migliorare il tuo metodo di studio devi avere un metodo di studio libero devi sviluppare i tuoi tre lati come facciamo nel memovia con i tre eroi il primo è l'eroe fenomenico la fenomenologia è la fase in cui si studia quindi capisci tutto più in fretta degli altri spieghi tutto approfonditamente a te stesso e sei in grado di spiegare anche agli altri studiare in modo efficace non è capire e poi schematizzare e poi memorizzare si studia subito quindi non c'è differenza tra la comprensione del testo e memorizzare anzi se capisci con l'elaborazione profonda si chiama così poi ricordi senza dover memorizzare questo ti permette di studiare più velocemente con un solo passaggio e un risparmio mostruoso di tempo ed energie per questo nel corso diamo così importanza alla fenomenologia con gli esempi pratici sui libri di come si studia un argomento in modo funzionale e intelligente leggere e comprendere l'ansia d'esame si riduce già di un terzo è come se avessi fatto metà del lavoro solo leggendo una prima volta lentamente il testo puoi già andare a dare l'esame con buoni risultati e ti senti libero a proposito potrebbero piacerti i video sulla comprensione che trovi nel canale il secondo l'eroe nucleare i nuclei ci sono alcuni dati definiti puri che necessitano comunque di essere notati elaborati in modo particolare occhio non ho detto memorizzati con le tecniche di memoria che per alcuni possono essere utili ho detto però che c'è un tipo di elaborazione particolare che ti porta a ricordare quello che leggi significa ricordare tutte le cose che ti servono per prendere voti alti e ti dà una preparazione perfetta ti fa emergere e ti dà una grande sicurezza di sapere tutto senza il limite di dover usare la memoria a lungo termine studiare a memoria o il pensiero di avere poca memoria anche qui riesci a studiare più in fretta eppure hai uno studio dettagliato e preciso l'ansia d'esame si annulla zero perché so praticamente tutto credimi il terzo è l'eroe dinamico la dinamica è chiederti il perché delle cose capire i legami logici e vedere ciò che gli altri non vedono ti fa creare dei collegamenti anche originali tra concetti e informazioni non c'è bisogno di esercitarti a parlare di simulare l'esame come facevamo spesso ripetendo a pappardella a scuola o anche per molti esami e non perdiamo un sacco di giorni alla fine per memorizzare e invece qui abbiamo già memorizzato sono giorni che possiamo usare per affinare le nostre conoscenze aumentare la competenza e prendere un voto ancora più alto non usiamo schemi non usiamo mappe perché già così questo ci permette di economizzare risparmiare tempo e energie la dinamica ci permette di raddoppiare la velocità di studio a questo punto l'ansia ha liberato il posto e viene sostituita dall'eccitazione perché so più di qualunque altra persona spesso ne so quanto il prof e con lui o con lei posso avere una conversazione piacevole sembra fantascienza eppure funziona sempre elaborare la fenomenologia dei nuclei in movimento ci ha richiesto 15 anni di lavoro ed è basata sugli studi più recenti della psicologia dell'apprendimento le ricerche scientifiche degli ultimi 20 anni parlano molto chiaro non devi avere un metodo o meglio non devi averne solo uno se in qualche momento della tua vita hai avuto problemi con lo studio se all'università hai detto non sono capace non capisco non sono portato per questa materia e se i risultati col tuo metodo di studio non arrivano non arrivavano è perché sei uno studente di uno dei tre tipi che abbiamo detto e le cose che hai deciso di studiare il modo in cui lo hai fatto ti hanno portato a far leva su una sola caratteristica delle tre o su una caratteristica sbagliata per te che non ti corrisponde e non le sviluppa tutte e tre insomma hai usato dei metodi irrealistici perché prescrivono dei procedimenti rigidi che non rispettano le tue caratteristiche individuali commetto che ora stai dicendo ma funzionerà proviamo e adesso stai anche pensando ecco ora mi propone di comprare un corso o un libro e invece no te lo regalo così puoi vedere subito quanto funziona la fnm su di te come su tutti i membri della community memovia quindi vai sul sito memovia.it e leggi il libro gratis spero che questo video ti sia piaciuto e ti abbia dato finalmente una speranza l'aspirazione di capire che sei una persona unica e puoi usare questa unicità per studiare meglio in meno tempo iscriviti al canale se vuoi sapere tutto sulla fenomenologia dei nuclei movimento lasciami un commento qui sotto per chiedermi qualcosa raccontarmi il tuo modo di studiare darmi un consiglio sui prossimi argomenti da trattare o semplicemente dirmi cosa ne pensi rispondo sempre non devi avere un metodo ci vediamo nel prossimo video